Ciao a tutti e benvenuti su MyFootballJersey. Io sono Stefano e oggi vi presento la maglia, la prima maglia dell'Ajax per la stagione 21 e 22 nella versione FUN, quella cioè dedicata ai tifosi. Per creare questa maglia home dell'Ajax, Adidas si è ispirata alla gloriosa epoca in cui il club ha ottenuto la maggior parte delle sue vittorie. Il look pulito, il design girocollo, la striscia rossa più stretta e lo stema del club strizzano l'occhio ai primi anni 70, quando una squadra leggendaria dominava in Europa con il suo calcio totale. Come da tradizione di quel tempo, il logo non contiene le stelle del campionato. Le tre stelle sono invece presenti come un dettaglio del collo con una sottile aggiunta delle tre croci di Andreas. In linea con il tema classico, durante le partite nazionali l'Ajax giocherà solo con i numeri sulle retro e senza nomi. Nelle partite europee invece la squadra giocherà con nomi e numeri completi, come da direttive UEFA. La maglia regala il massimo comfort grazie al tessuto morbido con tecnologia antiumidità AeroReady, realizzata con materiale riciclato come prova tangibile dell'impegno di Adidas nella lotta all'inquinamento causato dalla plastica. Allora, cosa ne pensate della maglia? Secondo me è veramente una bella maglia, tra l'altro dotata di una grandissima tradizione e un grandissimo fascino. Nella mia classifica questa prende quattro stelle, ditemi voi cosa ne pensate. Ora prima di lasciarvi alla parte in cui vedrete la vestibilità, se il video vi è piaciuto, come al solito vi chiedo di mettere un like al video e di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, alla prossima, ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Quella che vedete è una taglia large della versione fan, quella cioè dedicata ai tifosi. Grazie a tutti!